Francesco, ora vanno di conoscere, io voglio innanzitutto ringraziare il Signore per quello che sta facendo nella mia vita, mi ha cambiato da così a così e non voglio anche spiegarvi perché comunque sono cose che sentisco io e il Signore poi volevo comunque ringraziare, oltre al Signore volevo ringraziare le persone che mi hanno fatto conoscere il Signore tra cui vino, mia madre e mio padre perché siamo una famiglia religiosa e infatti ieri c'era un altro ragazzo che aveva i genitori evangelici e praticamente mi ha detto no io non seguo a mia madre e mio padre perché non mi va e io subito ho saputo rispondere dicendo comunque a noi la postura nostra che proprio abbiamo dei genitori che ci hanno indicato la giusta strada con l'aiuto del Signore e questa è una cosa da non sottovalutare perché molti ragazzi non conoscono il Signore però perché non hanno fondamenta e penso che poi noi siamo fortunatissimi di stare qua e io mi sento ogni volta che vengo qui un fuoco e mi sento la grazia del Signore è l'inunzione che scende su di me e sono felicissimo di questa cosa e benvenuto il Signore grazie grazie